Nacque al mondo un sole, così scrisse Dante di Francesco. Un sole nato più di mille anni dopo Cristo, ad Assisi, nell'inverno del 1181 o del 1182. Mettere in comune ciò che finora è stato difficilmente accessibile, condividere ciò che altrimenti resterebbe privilegio di pochi, e raccontare San Francesco, che della comunicazione aveva fatto una delle sue grandi qualità, sfruttando i nuovi linguaggi e parlando, non solo, ma soprattutto ai più giovani. Nasce così Frame, la Mediateca Francescana del XXI secolo, ora aperta al pubblico ad Assisi. Frame, realizzata da Capware grazie al contributo di Eni, è composta da tre sali multimediali in cui vengono proiettati i documentari sulla vita del santo patrono d'Italia, da cinque postazioni multimediali, da due maxi schermi, da due touchscreen e da uno schermo 3D. Le postazioni interattive presenti nelle sale permettono ai visitatori di apprezzare i dettagli degli affreschi della Basilica, sfogliare documenti altrimenti inaccessibili, ripercorrere i viaggi di Francesco e conoscere il Sacro Convento di Assisi attraverso un tour virtuale che consente di immergersi nella vita dei frati, coglierne il senso di fraternità e comunità francescana. Oltre mille le immagini consultabili, Frame si candida a diventare il salotto nel quale i pellegrini, accolti da Francesco, cominciano a conoscersi e incontrarsi come fratelli, spiega padre Giuseppe Piemontese, custode del Sacro Convento, Frame, acronimo di Mediateca Francescana, fotogramma, immagine del viaggio, ma anche fra me, luogo in cui ritrovarsi, voci e immagini cui puntano a raggiungere il punto più profondo del nostro esistere, per aprirlo alla trascendenza nel suo significato più alto.